Intesa per scongiurare il fallimento della Fiera del Levante di Bari, tutto rinviato al 15 gennaio. È quanto emerso ieri dopo tre ore di discussione nel Consiglio Generale dell'Ente. Di fatto però non è stato risolto il vero nocciolo della questione, ovvero quello legato alle risorse economiche. Dunque la situazione non si sposta di una virgola. Se i soci non metteranno mano al portafogli sborsando in totale 10 milioni di euro, la Fiera del Levante dovrà chiudere definitivamente i battenti. Tutto questo è stabilito mentre sempre ieri in Consiglio Regionale veniva depositato l'emendamento al bilancio che stanzia fino a 5 milioni di euro per le fiere di Bari e Foggia. Intanto quella di ieri è stata un'assemblea dai toni infuocati. Ad accendere gli animi è stata l'approvazione della pianta organica. È da questo punto che è venuta fuori la sorpresa. Tra il 2012 e l'inizio di quest'anno, e quindi in un periodo di piena crisi, risultano essere state assunte dall'Ente due unità lavorative, che potrebbero diventare tre se si considera che l'Ufficio Provinciale del Lavoro ha recentemente informato l'Ente di un ingresso in servizio sconosciuto a tutti. Per il momento dunque il bilancio della Fiera del Levante si chiude con un passivo di 3,1 milioni di euro. Capito la parte, merita la questione del cofinanziamento del nuovo padiglione acquistato con fondi europei. Finora sono stati messi a disposizione 1,1 milioni di euro, ovvero il 6,08% del valore dell'opera. Ma si corre il rischio di dover contabilizzare il 31,37%, cioè 5 milioni di euro. Una nota dolente che dovrà affrontare la Regione Puglia.